I valori etici e democratici che sono scaturiti dalla resistenza sono i fondamenti del convivere insieme e oggi più che mai c'è bisogno di valorizzare tutti questi aspetti democratici. Partendo dice Maria Chiara Scinni da ex insegnante proprio dalla scuola. È lei la nuova presidente dell'Istresco, l'istituto trevigiano per la storia della resistenza, a passarle il testimone Amerigo Manesso che resta membro del comitato scientifico. Un cambio in rosa visti gli incarichi di segretaria Paola Bruttocao e di direttrice scientifica Ademilia Peatini che per il 2023 dovranno occuparsi tra l'altro degli eventi per gli 80 anni dall'armistizio. Questo è l'obiettivo principale che raccoglierà anche oltre alle fonti scritte, quindi a ricerche sui documenti, ci concentreremo anche sul recupero delle fonti orali. Ne abbiamo già parecchie raccolte negli anni precedenti su vari argomenti, adesso vorremmo dare un ordine. Istresco che conta circa 200 soci e che vuole raggiungere le giovani generazioni adottando un nuovo linguaggio. Dicono che Facebook è già per i vecchietti, ma Instagram ho altre possibilità di comunicare. Vorremmo organizzare dei pacchetti da proporre ai comuni per insistere e provare a fare storytelling, che probabilmente è molto più gradevole. Istresco che vuole inoltre valorizzare la propria biblioteca della sede di Fiera. Una biblioteca che ha più di 1200 titoli, vorremmo aprirla maggiormente, non solo a chi viene qui per una ricerca personale, ma anche portare i nostri libri all'esterno.